In autunno mangia soprattutto i semi del faggio, che si chiamano fagiole, e fa delle cacche molto più grandi di questa. Questo qua è un pezzettino della sua cacca, che è grande circa nove volte questo pezzo qua. Fa nove pezzetti così. E se la guardate vicino è tutta fatta di semi. La possiamo annusare. Puoi provare a annusarla? Io sì. Vero che non puzza? No. Vero che non puzza? No, no, no. Oddio di noccioline! Fa odore di vernizia, perché io gli ho messo intorno una vernizia, l'ho messa a molla in una vernizia per poterla conservare. Questa ha undici anni che sta cacca, sapete? Come lui! Poi...